Oggi sì, facendo un po' di schemi anche di storia, un po' di schemi sul Roma, sui Romani, sì sì. Come ti sei trovato? No, no, benissimo, benissimo, cioè riesco a farli. Beh dai, quanto tempo risparmi rispetto a prima? Beh, prima ci vuoi un'ora e mezzo, un'ora e mezzo che fa uno schema, uno schema di un capitolo. E oggi? Oggi ci ho messo mezz'ora o 40 minuti, dipendeva dal capitolo.